Restiamo in Lombardia, però passiamo a parlare di sicurezza proprio con l'assessore alla sicurezza, protezione civile e migrazione, Simona Bordonani. Sentiamo. Lei in aula del Consiglio regionale è intervenuto per rispondere ad una interrogazione che chiedeva militari a Milano. Naturalmente lei ha detto sì, potranno arrivare o no questi militari? Ritengo che sia essenziale che arrivino i militari, soprattutto perché anche ieri, mentre si svolgeva il Consiglio regionale, un'altra gioielleria ha subito un nuovo attacco da parte della criminalità che ormai la fa da padrona a Milano. Quindi, al di là di quello che sostiene il sindaco Pisapia, che la presenza dei militari è importante nei presidi, ritengo, come ritiene anche il gruppo consigliare del Comune di Milano, il gruppo consigliare della Lega Nord, che è essenziale che ci siano anche pattuglie di militari che presidino il territorio. Questo è fondamentale sia per quanto riguarda la sicurezza percepita, ma nel caso di Milano anche la sicurezza reale. Quindi la presenza di militari verrà richiesta e mi auguro che rientri in quel protocollo che spero trovi una firma, una sottoscrizione da parte di Regione e di Governo in breve tempo. Questo protocollo che già prevede una collaborazione stretta tra le polizie municipali e la polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e quindi un'interconnessione tra le varie centrali operative, ma anche interconnessione con ovviamente la cabina di regia di prefetture per una collaborazione sempre più stretta tra i vari corpi presenti, le varie forze dell'ordine presenti sul territorio. Ci auguriamo che all'interno di questo protocollo venga inserita anche questa importante richiesta che proviene da Regione Lombardia. Torniamo però a qualche settimana fa perché lei sempre per quanto riguarda la sua materia ha incontrato i suoi emologhi di Veneto e del Piemonte. Quindi stiamo parlando dell'assessore stivale e molinari. In occasione per esempio dell'incontro con l'assessore a sicurezza Veneto è stata sottolineata la necessità di una colonna unica per quanto riguarda la protezione civile. Poi ha indicato anche il Veneto come un modello, comunque come progetto pilota per l'immigrazione. Ci spiega perché? Beh, ci sono su due fattori, si è lavorato con i miei colleghi Stival e Molinari. Stival che ha le competenze per quanto riguarda la protezione civile e l'immigrazione, si stanno attuando degli accordi importanti e si sta portando avanti un lavoro comune. Per quanto riguarda protezione civile riuscire ad arrivare alla costituzione di una colonna mobile macro-regionale. Questo per vari motivi. Prima di tutto perché sono tre regioni bene organizzate sulla protezione civile e hanno dimostrato che in caso di emergenza vedessi il terremoto dell'Abruzzo. Sono state le tre regioni che più hanno contribuito nell'immediato alla situazione di emergenza che si era posto. Per quanto riguarda l'incontro con l'assessore Molinari che invece gestisce la delega alla sicurezza, si sta attuando anche in questo caso un protocollo comune per quanto riguarda la sicurezza. E quindi dare la possibilità, sarà quello che verrà chiesto al governo romano, anche alle polizie locali di poter uscire dal territorio di competenza. Viene da pensare ad esempio alle emergenze che avremo in occasione di Expo, quando anche l'area di Novara, che è della regione Piemonte, però è più interessata ad Expo rispetto ad altre province più lontane di regione Lombardia. Quindi sarà necessario effettuare queste collaborazioni tra polizie locali e tre regioni. Sono comunque le tre regioni che hanno più problematiche per quanto riguarda l'immigrazione e quindi riteniamo di essere all'altezza e di dovere incidere in tal senso sia sul governo romano che su Bruxelles per quanto riguarda i flussi. A breve, nella giornata di domani, ci sarà un rincontro a Roma per quanto riguarda l'entrata in Europa dei nuovi cittadini europei della Croazia. Anche in questo caso si pone una forte emergenza perché la Croazia negli ultimi anni ha avuto un crollo, ovviamente colpita anche la Croazia dalla crisi, un crollo per quanto riguarda i PIL, la disoccupazione che è andata alle stelle e oggi è classificata tra i cinque paesi europei più poveri. Noi immaginiamo che dal primo luglio, perché ormai l'entrata della Croazia in Europa è imminente e con l'apertura ai cittadini ormai comunitari della Croazia si verificheranno, se non gli stessi problemi, probabilmente problemi anche più gravi rispetto a quando vennero aperte le frontiere rispetto ad altri cittadini che entrarono in Europa. La crisi colpisce tutti, sicuramente ha colpito i croati, ma noi non possiamo oggi permetterci di accogliere nuovi lavoratori dalla Croazia quando gli stessi lombardi, piemontesi e veneti non hanno lavoro.